Mamma, Ben è nei guai. Ho sentito delle voci. Che tipo di voci? Ci sono gravi accuse contro suo figlio. È così strano. Ha un sacco di cose brutte in camera sua. Ben! Scappa! Avevo otto anni quando li uccisero. La piccola orfana del massacro della preteria del Kansas. È stata una vera tragedia. Il tuo fratello sta scontando 28 anni. Senti, se vuoi convincermi che è innocente, stai sprecando tempo. Voglio che ci aiuti a capire quello che è successo. Parlami di questo club. Si chiama Kill Club. Ex poliziotti, investigatori privati. Riapriamo dei casi e li risolviamo. Va da tuo fratello. Tutto inizia con lui. Che vuoi dire? È innocente, Libby. Ecco la mia sorellina dopo tanti anni. Non ho bisogno di chiedertelo. So che le hai uccise tu. Invece no. Andiamo, tesoro! Hai mentito. E anch'io. Tutti mentono. È ora di dire la verità. Mi dispiace per te, ragazzina. Anche tu sei imprigionata come me.